Benvenuti alla prima giornata delle 100 ore nel Piceno, un blog tour organizzato da PicenumTour. Sono super emozionata perché è il mio primissimo blog tour. Per oggi è previsto un giro nel centro storico di Ascoli Piceno e poi questa sera cena nello storico locale Caffè Meletti. Siete pronti? Andiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti!